Ciao grandissimi, benvenuti su Food Stories, oggi andiamo a parlare della variabilità genetica degli avocado come vedete qui in questo vaso ho tantissime piante di avocado, vedete? qui ci sono più di 10 piante senza problemi e vediamo già da subito che abbiamo già un sacco di colorazioni differenti già sui tronchi delle piccole piante ma vediamo anche molte differenze per esempio sulle foglie qui abbiamo delle foglie molto piccole, ondulate, foglie intermedie, non proprio ondulate foglie già che cominciano ad essere importanti, molto belle foglie veramente molto belle, cioè molto grandi altre piante che sono minuscole, piante che sono veramente grandi molto spesse con il tronco che realmente è il doppio o quasi il triplo rispetto ad alcune tipo questa che è veramente molto fine confronto a questa insomma che sono nate nello stesso momento si vede che proprio c'è una variabilità genetica davvero molto importante ma perché è davvero importante questa variabilità genetica? perché ci permette di avere costantemente un rimescolamento genetico che può portare a creare delle piante molto molto resistenti o piante che sono semplicemente poco resistenti perché per noi è importante? perché possiamo andare a cercare delle piante che riescono a resistere anche al nostro clima e com'è che avviene questa rimescolanza genetica? noi sappiamo che gli avocado per avere un'impollinazione, per allegare il frutto hanno bisogno di due gruppi, ovvero il gruppo A e il gruppo B che con l'impollinazione crociata dà vita a tanta produzione ora sappiamo che comunque anche piante che sono solitarie che non hanno un'altra pianta vicina, di gruppo differente riescono a fruttificare lo stesso però ecco, per avere una fruttificazione veramente molto importante nelle piantagioni di avocado inseriscono piante di gruppo differenti che poi vanno a incrementare molto la produzione della pianta che si vuole appunto coltivare e questo ci permette naturalmente tramite questa impollinazione crociata di andare a creare costantemente nuove varietà perché con un'impollinazione crociata andiamo a creare un rimescolamento genetico che ci porta a tutta questa serie di piante completamente differenti e questo sicuramente, almeno per me, è un vantaggio importantissimo perché ci permette di andare a scovare tutte quelle piante che sono più resistenti, che ci danno maggiori vantaggi che magari non sono nemmeno troppo vigorose e riescono bene a sopportare anche il marciume radicale che riescono a reggere bene anche i venti freddi, il freddo insomma, questo vaso, questo inverno andrà in un posto non troppo caldo della casa andrà in un posto dove ci sarà anche un po' di vento e vediamo quali tra queste riuscirà a resistere a questo tipo di condizione questo sarà un test davvero molto importante ci sta che se non sopravviva nemmeno una però insomma, avevo in mente tanti semi da piantare e ho detto, mettiamoli tutti in un vaso li metto poi all'esterno durante l'inverno e vediamo quali tra queste riuscirà a resistere questo è un test davvero molto importante per me perché mi permetterà di andare a scovare quelle poche piante che sono degne di nota e che riusciranno quasi sicuramente poi a resistere anche al meglio al clima perché so e conosco che le varietà messicane ora non so se tra queste ci sarà qualche varietà messicana ma probabilmente sì resistono molto meglio al freddo per esempio l'izutano che ho fuori resistono molto meglio al freddo sono tante piante che anche gli avocado insomma riescono a sopravvivere a questa condizione quindi spero che tra queste ci sia comunque una variabile genetica che mi permette di avere una buona resistenza al freddo comunque ragazzi ve lo volevo far vedere perché questa secondo me è una condizione che dovreste fare tutti cioè nel senso voi avete la possibilità di mangiare tanti avocado prendete tutti i semi, li piantate tutti insieme e li mettete in delle zone molto esposte dove fa davvero freddo e vedete quali tra tutte quelle che avete piantato stanno meglio e da quel punto lì voi decidete e portate avanti solo alcune piante perché ragazzi vi posso assicurare che portare avanti tutta questa varietà di piante sì potrebbe essere interessante perché magari qualsiasi tra queste piante può dare buone buoni risultati però non è possibile cioè molto sinceramente non è possibile o avete un campo enorme e allora a quel punto vi potete permettere anche di piantarle tutte o altrimenti è molto molto difficoltoso vi faccio vedere l'ultima cosa prima di chiudere il video già da subito vediamo quali sono quelle più resistenti al freddo perché per esempio c'è stata una bella botta di tramontana in questi giorni e vediamo che già per esempio questa è già stata bruciata dal freddo vedete questa probabilmente è una pianta che non ce la farà quest'inverno questa uguale vedete non so se si riesce a vedere comunque c'è diciamo una leggera bruciatura da freddo questa ancora meno e poi si va sempre più verso quelle che non hanno subito praticamente niente vedete qui questa sta bene quest'altra sta bene questa che è anche molto piccola sta bene questa che ha le foglie davvero molto spesse già da subito mi sembra davvero molto in forma e questo insomma ci dà già degli indizi su quali potrebbero essere le piante più resistenti e quindi niente dai ragazzi volevo far vedere e vi volevo insomma consigliare di fare anche voi tutta questa piantagione perché almeno riuscite poi a trovare delle piante ed è ne nota che secondo me faranno poi la differenza e dai niente ci si vede al prossimo video sempre qui su Food Stories ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti